Eccole qui le farfalle gialle che volano oltre il filo spinato, quelle di cui parlava Liliana Segre e anche naturalmente ne parlava Pavel Friedman, un bambino di Terezin. Le possiamo fare anche noi con la lana nera, qualche ritaglio, due ritagli e si annodano, un po' di pazienza e il filo spinato lo riescono a fare anche i bambini e poi prendiamo una bottiglia di color arancione o giallo, tagliamo l'inizio e la fine, la parte centrale la possiamo aprire ed appiattire, poi la sagoma di una farfalla, un pennarello indelebile, possiamo tracciare la forma e ritagliare. Non è semplicissimo ma si riesce. Poi le pieghiamo, vediamo che sono belle lucide e colorate e con il nastro da elettricista facciamo il corpicino e anche le antenne, belle perché oltre alla memoria ci vuole un po' di speranza.